Termina la fine della gara, partita che termina con una sconfitta per loro, hanno combattuto, hanno provato anche fino alla fine, ma non è bastato per ottenere un risultato positivo. Qual è la tua analisi di questa gara Luca? Non sono riusciti a cambiare l'inerzia della partita, il gol iniziale li ha messi in ginocchio e non sono stati capaci di recuperare, comunque il risultato è giusto. Credo ci siano per togliere il collegamento, un rapido ringraziamento a Luca Marchegiani e un saluto a tutti, da Fabio Caressa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.